Seconda parte di Telebari Social Night, Andrea oggi fa un caldo bestiale, è proprio arrivata l'estate, che ne pensi? Quasi da bagno di notte, però c'è una puntata da condurre, quindi non andiamo via. Sì, c'è una puntata da condurre, ma in questo momento ci vorrebbe un bel trullo, perché i trulli, devi sapere, sono freschissimi e non hanno bisogno di condizionatori di niente. C'è qualcuno che ce lo racconta benissimo. Vediamo la clip. Immagina i contadini pugliesi, che con dedizione e amore raccoglievano pietre nei campi o nelle cave vicine. La costruzione di un trullo iniziava con la scelta del luogo. Tracciata la planimetria sul terreno, si procedeva con lo scavo fino a raggiungere lo strato roccioso. Poi, con maestria artigiana, si erigevano le spesse murature a secco utilizzando grandi conci lapidei. Il momento più magico arrivava con la costruzione della cupola. Anelli di conci orizzontali leggermente aggettanti si sovrapponevano, creando una volta auto e portante. Infine il pinnacolo, simbolo di protezione e di buon auspicio. C'è chi si aspettava adesso una televendita di refrigeratori, verrà deluso perché adesso per uno spazio culturale facciamo un viaggio in Valle d'Itria, vero Giulie? Facciamo un super viaggio in Valle d'Itria grazie a Rossana Galiano, architetta e fondatrice di Architria. Rossana, sei tu la creatrice di quel video che abbiamo appena visto? Assolutamente sì. Architria o architria? Architria. Sta per Architettura in Valle d'Itria. Architettura in Valle d'Itria, non gongolare troppo, raccontaci questo progetto Rossana. Architria è il frutto della mia storia perché io nasco in una famiglia di mobilieri e di qui la passione per il design e l'arredamento. Cresco e passo molto tempo con i nonni e di qui l'amore per la Puglia, le tradizioni pugliesi, una famiglia molto numerosa sia dalla parte della mamma che dalla parte del papà. E quindi sono cresciuta in mezzo alle tradizioni, l'amore per la campagna, per la Puglia, per l'Ulivi, le tradizioni. Poi divento un ingegnere di architetto e durante gli anni di formazione acquisisco delle competenze che riguardano gli investimenti immobiliari. E sei dovuta venire a Bari a studiare? Sì. È stato un trauma vivere la nostra città o no? No, assolutamente no. Bari è la mia seconda città. Ok. Io la amo e l'adoro fortemente. Però poi si è scappata. Sono andata nella parte più fresca. Sì, assolutamente sì, però continuo a venire a Bari, assolutamente. Facciamo un viaggio sul tuo canale social che è quello che ha rapito la nostra attenzione in redazione. Qual è l'obiettivo? Perché vai in una divulgazione ben oltre il settore immobiliare, fai proprio rivivere tantissime strutture tipiche della nostra Puglia. Qual è l'obiettivo? Assolutamente sì, l'obiettivo è proprio quello di raccontare il nostro territorio. Ed è una scelta di comunicazione ben precisa. Non passare come un profilo che sia un catalogo di progetti, ma raccontare la nostra terra, perché io trovo che sia il punto di forza della nostra Puglia. E credo poi che sia per quello che la gente decide di acquistare un immobile rurale in Puglia o decide addirittura di trasferirsi e venire a vivere. E' notizia degli ultimi giorni, Rossana, quella della classifica sfornata dal The Times sulle dieci mete pugliesi, i borghi più sconosciuti, più belli. Io vedrei insieme almeno le prime tre, poi capirete perché... Sei una marchettara, Giuliana! Vediamola, vediamola. Troviamo. Sì? Troviamo al primo posto... Oria, Brindisi! Oria, Brindisi. Secondo posto invece abbiamo Mola di Bari. Bellissima anche per la Sagra del Polpo. Esatto. Scusate se sono un po' blasfemo. E in terza posizione... Gravina in Puglia, la Valle della Murgia, non la Valle d'Itria. Che abitazioni delle nostre terre sono quelle che ti affascinano di più? Ovviamente i trugli e le masserie, gli edifici rurali. Oltre anche alle casette nel centro storico, nei piccoli borghi, la Valle d'Itria è costellata da piccoli borghi in pietra. E quindi sono quelli poi di cui ci occupiamo. Noi abbiamo un amore per questi edifici e abbiamo deciso di occuparci proprio di loro. Stiamo vedendo le masserie. Sì, adesso stiamo vedendo le masserie. Questa è una delle masserie. Noi facciamo molti sopralluoghi tutti i giorni e ne vediamo tante. Queste sono degli edifici particolari perché le masserie, soprattutto queste, non sono degli edifici statici. Si sono evolute nel tempo. La loro storia la legge nell'architettura. Questo è molto affascinante perché segnano epoche diverse anche dall'aspetto costruttivo. Questo è molto indicativo. Come intervenire su queste abitazioni senza snaturarle? Però rendendole più moderne, magari aggiungendoci elementi di design. Come fare? Trovando l'equilibrio giusto. Tra l'antico e il moderno vanno assolutamente ristrutturate, recuperate, ma valorizzate. Quindi quello è il segreto. Sicuramente rifunzionalizzarle, altrimenti non sarebbero vivibili, abitabili, però con il giusto tatto. Io voglio andare un po' nei mercatini con te perché la Valle d'Itria pulula di mercatini dove ci sono oggetti del passato che adesso sono stati rivalutati. Alcuni raggiungono prezzi forse anche un po' troppo. Cosa ne pensi? Qual è il mercatino che suggerisci tra di noi e ai nostri telespettatori? Sicuramente è il mercatino di Ostuni, uno dei più belli. Ma ultimamente stanno crescendo bene anche altri mercatini che prima erano un po' più piccoli, come quello del mio paese di origine, Francavilla Fontana o Cisternino. Gli oggetti più ambiti, secondo te, quali sono? Gli oggetti complementi d'arredo? Ce ne sono tanti, degli più svariati, ma perché si riescono a recuperare, a trovare degli oggetti pazzeschi. Dall'elemento di arredo, la poltrona, il divano, la lampada, la stoviglia, quadri, anche utensili antichi. Sì, con cui si faceva il vino, l'olio. È divertentissimo andarci. Io ci vado anche con i miei clienti, li accompagniamo per cercare il pezzo giusto, ecco per creare, ritornando al punto di prima, il giusto equilibrio tra l'antico e il moderno. Ci piace molto giocare con questo mix. È anche un po' il nostro punto di forza. E tu ci racconti anche il mondo dell'artigianato pugliese, entrando anche nelle botteghe. Vediamo questa clip e poi ne parliamo insieme. Allora, questa dimensione parla che si ha pure di grottaglie. Qui si mette il vino. Se scopri il segreto, bevi tutto il vino. Se no, passi a un'altra, un'altra. Chi lo scopre e beve, se no, non beve. Era un gioco dell'Ottocento. Per bere, devi succhiare da qui. Però non esce, sei succhi. C'è un segreto. Allora, questo è vuoto. Il manico è vuoto, come una cannuccia. Per bere, devi otturare un bucho che sta qui sotto. Devi fare così. Qui con una cassaforte, questi buchi, non sono tutti passanti. Devi capire quali sono due o uno. Che ne so, devi fare per esempio così. Cinco. E se no, il dito qui non mi arriva. Qui non mi arriva il dito. Dico all'amico, se inturturami questo foro. E posso bere, se no, non bevo. Però devi capire quale. Tanti oggetti molto particolari. Molto particolari. C'è un segreto dietro tanti prodotti pugliesi, come ad esempio anche penso al Pumo. Sì, devo dire che la ceramica di grottaglie è piena di oggetti della tradizione, degli più svariati, che hanno delle storie incredibili. Il signore che abbiamo visto è Mimo Vestita, è un artigiano pugliese che ha una bottega che si chiama Bottega Vestita, cui io sono molto legata. Ogni volta che lo vado a trovare, ci racconta delle storie, per noi sempre nuove, al che ne approfittiamo di filmarlo, perché effettivamente sono dei segreti che solo lui custodisce. Infatti io penso che lui sia proprio un patrimonio della nostra cultura pugliesa. Ti portiamo sulle pagine di Repubblica Bari, dove si parla della candidatura delle Luminari e Pugliesi come patrimonio dell'UNESCO. Noi ovviamente speriamo che questa candidatura possa andare in porto. Quanta tutela, di quanta tutela c'è bisogno per il nostro artigianato, secondo te? Tanta, tanta. Per fortuna negli ultimi anni c'è un grande ritorno e una grande attenzione all'artigianato pugliese. Io sono molto contenta di questo, perché loro sono Arta e ci trasmettono la loro Arta. Senza di loro noi non avremmo la nostra identità, non saremmo quello che siamo. Quindi loro sono importantissimi. Qui per esempio vediamo Torquato, Parisi, che è un artigiano, fa le luminarie. Le producono dal 1800 perché è una tradizione che si è tramandata di padre in figlio ed è incredibile quando racconta appunto quello che ha vissuto il nonno o il papà o come si sono evolute le tradizioni nel tempo. Torniamo anche a parlare del mondo dell'antiquariato e come fare a destreggiarci tra i mercatini e scegliere magari il pezzo più autentico? E non cadere nelle truffe soprattutto! E non cadere nelle truffe! Sì, quello non è semplice. Non è semplice. Nel mercatino dell'antiquariato devi avere sicuramente una profonda conoscenza di quello che stai acquistando perché è facile cadere nella truffa oppure nell'acquisto dello pezzo sbagliato. Bisognerebbe andare con qualcuno che ne capisce? Assolutamente sì. Con te? Ci porti? Certo, è certo che vi porto. E io invece vi porto prima sulle pagine di Telebari dove c'è una rubrica che ormai va avanti da mesi e ci parla di un fil rouge che lega proprio Bari a Milano. Cosa succede? A Brera c'è un antiquario che colleziona bottigliette di San Nicola a dimostrazione del fatto che il mondo dell'antiquariato anche barese e pugliese si trova dappertutto. Ma dopo questo vi porto invece con me in un antiquario che ho trovato ho scovato in via Bategim ma qui a Bari e mi ha parlato un po' di quanto ci siano nella sua bottega dei pezzi unici di cui non vuole liberarsi. Vorrebbe metterli in vendita ma poi ci ripensa ogni volta guarda in faccia le persone e dice ma chissà è davvero innamorato? Succede davvero questo? Rossana? Sì, sì, sì assolutamente sì mi è capitato più e più volte che tra l'artigiano e l'oggetto che crea che produce ci sia un legame indissolubile e non riesce a vendere l'oggetto perché è una sua opera d'arte ritorniamo al discorso al discorso di prima c'è un profondo legame tante volte è successo anche a me leggevo nei tuoi occhi che c'era una storia personale veniamo con te in Valle d'Itria che ormai pulula di presenze dall'estero ci sono tantissimi turisti che vogliono acquistare casa però magari c'è meno conoscenza del rispetto della nostra tradizione architettonica io gioco queste parole spero di averle messe in ordine giusto è sempre così oppure vengono e vogliono stravolgere un po' le cose le carte in tavola che esperienze ci porti? non è sempre così assolutamente sì ci sono casi in cui si ha una percezione della Puglia che sia più legata all'architettura romana ed è per questo sostanzialmente che poi le richieste portano allo strimolgimento delle nostre architetture però lì sta a noi a noi attraverso il nostro lavoro far comprendere che siamo in un territorio completamente diverso fatto della propria della propria storia delle proprie tradizioni della propria cultura ed è poi quello il lavoro che facciamo è come se fosse un percorso un percorso di crescita che noi facciamo quotidianamente con i nostri clienti anche un po' spirituale sì pagherei per sapere le richieste strane che hai avuto gondole di Venezia in piscina facci sognare dici un piccolo spoiler colosseo diciamo così ok un trullo colosseo mi viene da pensare Giulia ti ci vedrei benissimo nel trullo colosseo nelle cose pacchiane ma voglio rispettare la mia regione domanda il design minimal è finito sostituito dal modernariato da questo modo di contaminare il design con l'antiquariato al momento penso proprio di sì però siamo fatti di corsi e ricorsi storici quindi sicuramente ci sarà un ritorno come c'è ed è attuale il ritorno del modernariato cosa ti auguri che non ritorni mai? il minimal e allora chiudiamo questo secondo spazio di social night ringraziando la nostra ospite Rosanna thank you very much grazie a voi grazie a voi grazie a voi ti aspettiamo per una visita guidata mano a mano nella Valle d'Itria anche nei mercatini assolutamente sì noi proseguiamo dopo la pubblicità andiamo nel mondo della musica rimanete con noi grazie a voi grazie a voi